Domanda numero 83 del Catechismo di San Pio X. San Giuseppe non fu padre di Gesù Cristo? San Giuseppe non fu padre vero di Gesù Cristo, ma padre putativo, cioè come sposo di Maria e custode di lui fu creduto suo padre senza essere tale. Noi sappiamo che la Vergine Maria è sempre Vergine. Ha concepito per opera dello Spirito Santo. San Giuseppe non c'entrava. Prima che andassero a vivere insieme concepì per opera dello Spirito Santo. E non era come oggi che adesso ehi ciao prima che marito e moglie vadano a vivere insieme già hanno fatto tutte le esperienze che gli piacciono. No 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 non è così e difatti si vedono risultati perché ormai nessuno più si sposa e chi si sposa poi si divorzia. No no l'incarnazione avviene per opera dello Spirito Santo e quindi San Giuseppe questo santo straordinario come è dipinto in maniera meravigliosa nell'opera di Maria Valtorta sulla vita di Cristo è un santo che ha dato diciamo così il nome è stato padre putativo adottivo diciamo così in un certo senso tutti credevano che fosse veramente il padre di Gesù ma non lo fu nella carne solo Maria è madre nella carne di Gesù da parte di padre e il padre è lo Spirito Santo. Allora San Giuseppe non fu padre di Gesù Cristo? San Giuseppe non fu padre vero di Gesù Cristo ma padre putativo cioè come sposo di Maria e custode di lui fu creduto suo padre senza essere tale.